Giornata particolare oggi a Cavaglia. Per la prima volta in assoluto lo sfuggente grummo, l'ormai famoso gigante che cucina la zuppa nelle marmite del giardino dei giganti di Cavaglia, si è mostrato ai grandi e piccini. L'occasione è stata la visita del suo amico Cla Ferrovia che è giunta ad oltre Bernina con un folto gruppo di bambini a seguito. Nel regione italiano è riuscito a strappare a grummo la sua prima intervista in assoluto. Siamo qui per un'intervista, la prima intervista a grummo. Come ti trovi grummo? Salute, mi ha fatto molto bene, super bene, super. E cosa stai facendo adesso? Oltre mi manca una spaziergange, una scelta per la classe. Per la classe Ferrovia e la scelta con i mini papparelli. Romeo. Consigli anche ai bambini della Val Poschiavo di venire qua a visitare il giardino di Ghecciai. Io sono qui, perché anche Jessica è qui, la servizio del ristorante, io sono qui, sono qui, sono qui, sono qui, anche i bambini della Val Poschiavo. Sarei qui tutta l'estate? Non è male perché mi hanno un'ora di sfruttare. Grazie, perché mi hanno un'ora di sfruttare il moro. Io vieni qui, papà vieni qui, in Ghecciaivo e in Ghecciaivo. Io vieni qui in Val, in Berge. Grazie grummo. Quanto lasciato intendere, comunque, per quest'anno grummo sembrerebbe intenzionato a tornare nel suo nascondiglio. Possibili apparizioni qua e là non sono da escludere, ma per poterlo rivedere bisognerà probabilmente attendere il prossimo anno. Fonti vicine al gigante assicurano che nel 2018 le sue apparizioni saranno più frequenti. Non ci resta dunque che attendere e farci sorprendere.